Adesso cominciamo la registrazione, dunque l'altra cosa è magari di condividere lo schermo, allora questa è la schermata, naturalmente quando volete intervenire, dunque riuscite a vedere Natural Life e Artificial Life, ok? Ok, dunque le slide sono in inglese, ovviamente io parlo in italiano, ma le slide sono in inglese per questo motivo. Uno è perché così, diciamo, soprattutto sul mio canale YouTube c'è una diffusione molto maggiore, secondo perché effettivamente nel seminario vi ripropongo alcune lezioni che ho fatto... Scusate, devo toglierlo, ecco un attimo, dunque innanzitutto metto le vostre belle faccine sul secondo schermo e ripeto, innanzitutto perché c'è una diffusione più estesa. E poi perché alcune lezioni, queste lezioni che vi faccio, queste tre lezioni, sono le prime, una riproposta di parte di un corso che ho fatto quest'inverno a novembre all'Università di Inopolis, C'è, scusate, l'Università di Kazan, diciamo, nella sottostruzione di Inopolis. Inopolis è una specie di MIT russo dove c'è un po' tutta l'intelligenza russa dell'informatica. E lì troverete il corso completo, perché io qui posso soltanto farvi vedere alcune cose. Dove lo trovate il corso completo a cui fare riferimento? Un attimo che apriamo, ecco, questo è il sito, speriamo che cammina internet, sì. Questo è il sito dell'IRAS, vedete, è iras.org, lo leggete? Leggete qua su, iras.org, se voi andate a forse letture, va bene? Quelle date all'altra università e qui c'è anche Inopolis, va bene? Poi seguite tutti i link, adesso vi faccio vedere tutto, e trovate tutto il corso. Poi io metterò qui, online, qui nei corsi, vedete, qui c'è il riferimento ai corsi che sto dando online, adesso che siamo in regime di arresti noviciniari. I corsi che sto dando online, c'è il link essenzialmente al mio canale di YouTube. Il mio canale di YouTube è Gianfranco Basti. Siccome io adesso c'è tutta una bibliografia, che è essenzialmente quella dei corsi di Inopolis, e questa bibliografia sta sul sito IRAS. Scusate che, un attimo, se no c'erano voci fuori. Questa bibliografia sta sul sito dell'Iras. Ovviamente è una bibliografia in cui ci sono tanto materiale che potete scaricare. Io non lo posso non mettere sul sito dell'università, se no non finisce mai. Quindi il file, qui io creerò adesso un'altra pagina, quindi corsi, e ci sarà un'altra pagina che si intitola sempre in inglese, Natural Artificial Life, che sarà il vostro seminario. E su questa pagina scaricherò questo file di Word, dove c'è tutta la bibliografia di quello che vi dico, e molto di più ovviamente. Vedete che ci sono i link attivi? Allora, questi link attivi suppongono che c'è il materiale da scaricare. Così, vedete quanti ce ne stanno? Ok? Allora, questi link attivi, io non posso mettere tutto il materiale, anche perché ci sono problemi di copyright, non posso mettere tutto il materiale sul sito dell'Aderano. D'altra parte l'IRAS, l'area di ricerca sui fondamenti della scienza dell'Aderano, questo sarà tutto già messo lì, tutti i link sono attivi. E allora, quindi, quando è pronta la pagina, voi vi potrete scaricare tutta la bibliografia che volete. E se ne c'è un'altra, basta che la domandate. Ok? Vedete che nelle slide c'è riferimento, c'è R.E.F. per esempio 12, allora R.E.F. 12 fa riferimento a questo. Voi ve lo scaricate e ve lo studiate. Va bene? Chiaro? Sono stato chiaro come si usa? Va bene? Quindi avete, se volete fare il lavoro di dottorato, avete tutti i materiali che si usa. Allora, adesso questo lo chiediamo. Adesso non ci serve. Che succede? Allora, staccate magari i microfoni, cioè i microfoni attaccateli quando volete intervenire. Quindi adesso io chiudo anche il sito IRAS, che non ci serve più. Bene, cominciamo con il nostro seminario. Allora, vedete, il titolo è il Natural Life, la vita naturale e la vita artificiale, perché è il titolo che mi hanno dato. Io ci ho messo il sottotitolo per capirci. La simulazione artificiale dei processi biologici e materiali. Cioè, quando uno deve trattare... Adesso speriamo se c'è una visualizzazione. Bravo. Allora, quando uno deve trattare un tema come... Va bene, qui c'è sempre riferimento al IRAS, secondo me. Quando uno deve trattare il problema della vita artificiale, c'è due temi. Cioè, c'è due modi di farlo. O parlare di ingegneria genetica. Perché appunto, io, questo mio sottotitario, che ci potrebbe essere il tiro di fare i robottini che sono simuli umani, tutte le feste di... Lasciatele perdere per chi deve vendere i giornali o vendere i libri, facendo la visualizzazione. Non ci sentono molti umori. Guardate, se staccate i microfoni e i video si sente meglio. Perché staccate i video e i microfoni vostri se dovete intervenire. Sennò parlate, perché altrimenti la linea si sovraccarica e poi l'effetto non è buono. Allora... Sì, tutti, ok. Allora, quindi io non parlo dello stupidario sulla... alla dottor Faust che facciamo gli uomini artificiali. Ma questo lasciatelo per chi c'è tempo da perdere e deve imbrogliare la gente con le stupidità. Io parlerò di questo. Cioè, perché poi come filosofi è quello che ci interessa di più. Da una parte la simulazione biologica, scusate, la simulazione artificiale di processi biologici e simulazione artificiale che prima di costruire il device, per esempio una protesi di bioingegneria o fare esperimenti di ingegneria generica, c'è tutto un lavoro di simulazione al computer. Va bene? Quindi io parlerò molto e spero nell'ultima parte di dirvi qualcosa sul deep learning, sull'artificial intelligence. Perché tenendo presente che c'è tutto un nuovo settore che sta nascendo dell'artificial intelligence che è strettamente legato alla fisica quantistica, perché si tratta di simulare artificialmente attraverso i processi di fisica dei materiali, in questo caso fisica dei materiali biologici, tenendo presente che, e adesso ve ne parlerò subito, finalmente è andata anche negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti sono quelli che avendo i dollaroni poi gestiscono tutta la comunicazione, finalmente hanno deciso negli Stati Uniti che bisogna divulgare la cosa che a livello scientifico sappiamo da parecchio, cioè che i processi vitali hanno un fondamento di tipo quantistico. Va bene? Hanno fatto la scoperta dell'acqua calda, almeno negli Stati Uniti, sono tutti lavori che qui in Italia, in Russia, io dico questo perché ci lavoro e lo so, stiamo simulando da chissà quanto, in America c'è tutti i dollaroni investiti sullo stupitario del quantum computer fatto da Google che lavora a meno 273 gradi, quindi devono lavorare, sono tutte cose per carità, funziona per, quel tipo di computer funziona per, special purpose, ma non è riprogrammabile, quindi non è un computer vero e proprio, non è una macchina di Turing universale, ecco, per capirci. Perché? Perché lavora su un'impostazione di teoria quantistica dei campi, di meccanica quantistica, che richiede lo zero assoluto. Va bene? Quindi, sono tutte macchine che non possono andare all'utente finale, e viceversa, finalmente, anche negli Stati Uniti, pian piano, si comincia a vociferare a voce bassa, e se invece di lavorare sulla meccanica quantistica, quindi sulle strutture elementari della materia, lavoriamo sulla fisica della materia condensata, e la fisica della materia condensata è stabile a temperatura ambiente, quindi facciamo dei computer, e di non più dei quantistici, che lavorano sulla fisica, che simulano i processi di teoria quantistica dei campi termica, cioè a temperatura maggiore di zero, quindi sistemi fuori dall'equilibrio, dove l'interazione con l'ambiente è fondamentale, se lavoriamo con questo tipo di quantistica, allora possiamo lavorare, possiamo fare della computazione quantistica a temperatura ambiente, e vi dico subito un'applicazione, tutti parliamo dell'internet delle cose, adesso ci devono fare anche il tracciamento per il coronavirus, quindi chiaramente la sicurezza dei dati diventa fondamentale, sapete bene perché questo se ne parla, perché anche qua è un modo per fare pubblicità e trovare soldi, investimenti, che se si fa il computer quantistico, saltano tutti i sistemi di sicurezza basati sul criptaggio statistico classico, allora l'unico modo per mettere in sicurezza l'internet delle cose, quindi il fatto che internet controllerà tutto quello che noi siamo e facciamo e dare il prestaggio quantistico a tutti, cioè renderlo accessibile all'utente finale, ma questo non lo puoi fare se io per fare computazione quantistica mi devo mettere qua un frigorifero all'elio o all'azoto liquido che mi porta la temperatura del mio gigino a meno di 273 gradi, e questo è stupido, soprattutto non lo posso mettere sulle automobili, pensate alle mani di automobili a guida automatica, uno entra nel software della macchina che manda a spattere al muro e quindi facciamo gli omicidi sulle macchine che si ridono da sole, che è uno dei grandi problemi per cui questa tecnologia non si diffonde. è chiaro, io devo fare un trittaggio quantistico a temperatura ambiente e miniaturizzato perché lo devo montare un po' dappertutto. Allora, tutto questo si può fare se si sviluppa una quantistica a temperatura ambiente che quindi simula diciamo le basi quantistiche della materia della fisica condensata e quindi anche della stessa materia biologica. diciamo in Russia l'ho visitato io personalmente a novembre c'è un centro quantistico dove si lavora da decenni da decenni su questo. Ecco, finalmente gli americani hanno capito che bisogna investire in questa cosa e quindi hanno fatto uscire sulla rivista dell'MIT adesso un articolo di cui adesso vi parlo. Allora, ho fatto questa permessa che vi fa capire cosa c'è dietro la vita naturale e artificiale come si collega con l'artificial intelligence quindi io qua vi faccio una proposta un pochino di ontologia dei processi vitali e delle loro simulazioni artificiali basandomi molto sulla semiotica e sulla biosemiotica. Quindi questo sta nell'ambito di un progetto che sto portando avanti in ontologia per la nostra era informazionale che è un'ontologia come vedrete è basata sulla primarietà ontologica e logica delle relazioni sugli oggetti e quindi per esempio nella fisica quantistica fondamentale gli oggetti primari non sono le particelle elementari va bene? Nel vuoto meccanico come nella meccanica classica ma i campi interagenti di cui le particelle sono i loro quanti e i campi costituiscono un continuo dinamico quello che si chiama vuoto quantistico perciò oggi la meccanica quantistica è essenzialmente una teoria quantistica dei campi quindi le molecole macroscopiche composte da questo punto di vista sono condensate disomogenei di campi cioè di particelle quindi la cui unità dipende sulle coerenze di fase o le risonanze dei loro campi quantistici rispettivi l'esempio che faccio sempre a scuola cos'è una coerenza di fase appunto una risonanza perché la risonanza acustica è quella che tutti conosciamo se io suono con la mia chitarra la corda di là e c'ho qui una forchetta e qui un diapason questo vibra la forchetta no perché? perché la forchetta già micro vibrava mi scusi scusate il diapason già micro vibrava sulla sulla frequenza dell'A e quindi l'energia va bene io l'energia meccanica che io disperdo facendo vibrare la 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 corda di là diventa lavoro va bene soltanto dove c'è coerenza di fase allora questo vi fa capire che cosa cos'è il cuore della della teoria fantastica dei campi vista come teoria termica che quindi non lavora allo zero assoluto va bene ma lavora a temperatura maggiore di zero è la fisica della materia condensata dove l'entanglement c'è la coerenza di fase comune ok e quella in questo caso fra l'ambiente che è la chitarra e il diapason naturalmente io posso fare l'inverso cioè batto il diapason lo faccio vibrare e mi vibrerà la corda di là allora la vedete quindi mi diventa ambiente il diapason e sistema la la corda della chitarra ok in ogni caso lo scambio di energia energia che diventa lavoro ecco per cui siamo in termodinatica no il sistema era termodinamicamente morto gli metto energia dall'esterno e di quell'energia diventa lavoro però lo scambio di energia avviene dove c'è coerenza di fase va bene cioè dove i due campi vanno in fase o stanno già in fase allora il ecco che come vedete tutto dipende dalla relazione sistema ambiente e questo non si dice ma lo dico io tutti i problemi che noi abbiamo con l'ecologia e che noi abbiamo sviluppato una tecnologia da Newton in poi basata sull'illusione che i sistemi fossero isolati nel vuoto meccanico va bene non esistono sistemi isolati in natura almeno a livello della natura ordinaria che siamo abituati ogni sistema scambia con l'ambiente quindi l'approccio ecologico va bene e a tutto quello che adesso diciamo come emergenza ambientale e tutte queste belle parole che per carità fanno bene a tutti però a livello fondamentale si basa su un cambio di paradigma in cui la relazione va bene viene prima della particella isolata nel poto meccanico quindi siamo dopo il meccanicismo ecco perché non più meccanica quantistica ma teoria quantistica dei gatti anche se ripeto c'è una specie di consenso nella divulgazione perché ancora tutti parliamo di meccanica quantistica però di fatto la fisica che c'è sotto è quella che deve lavorare a temperature maggiore di zero quindi da questo punto di vista ogni sistema fisico vive del raddoppio fra sistema e bagno termico ho fatto l'esempio del diapason e della chitarra per capirci a livello intuitivo va bene e quindi questa è la fisica fondamentale dei sistemi biologici e chimici detto in questi termini i sistemi viventi sono dei sistemi macroscopici quantistici ma come la quantistica lavora soltanto a livello microscopico caldo e la quantistica lavora a livello microscopico quando noi andiamo a studiare i sistemi isolati se studiamo un sistema in questo framework noi vedremo sempre che quando due sistemi stanno in fase diventano un solo sistema quando io faccio vibrare la chitarra perché ho battuto il diapason diciamo la coerenza di fase fa sì che c'è un unico sistema che include il sistema è il suo bagno termico e come vedete ho cambiato metrica perché finché non erano in fase li potevo considerare separati quindi stavo su metriche più piccole quando mi vanno in fase è la dinamica che determina la metrica signori a livello cosmologico siamo già abituati a pensare che lo spazio tempo dipende dal campo gravitazionale lo spazio tempo è una realtà dinamica generata dal campo gravitazionale allora quando io vado a lavorare sui sistemi se li considero a livello microscopico posso ancora andare con l'astrazione dei sistemi isolati quindi se ho ancora meccanica quantistica il sistema sta sulla sola fase e non mi sa calcolare le transizioni di fase quando vado diciamo su sistemi di materia condensata vale anche questo nella fisica elementare però non voglio entrare in questioni troppo teoriche quando vado sulla fisica dei sistemi condensati devo considerare l'interazione dei sistemi va bene quindi condensati di materia cioè campi e allora i campi coinvolti ridefiniscono le metriche ecco perché io posso avere sistemi macroscopici quelle quali le tue le tue macroscopiche si spiegano soltanto a livello microscopico quantistico va bene quindi sistemi le cui proprietà caratterizzanti richiedono una spiegazione a livello microscopico quantistico un esempio sono i magneti sono i superconduttori ma in qualche modo anche se lo vedremo multelementarmente sono anche i processi vitali quindi tornando all'artificial intelligence se io sviluppo una quantistica una computazione quantistica simulando sistemi di materia condensata che interagiscono con l'ambiente io potrò un domani simulare direttamente al computer al computer quantistico pensato così la struttura di macromolegoli va bene e questo è ripeto si fanno già queste cose va bene adesso io non so se nei laboratori segreti americani si facciano perché quelli lavoravano tutto a livello militare e quindi può essere che nei laboratori segreti fanno le cose che in america significano solo le cose inutili cioè quelle che già sono state usate a livello militare e e quindi si possono divulgare normalmente questo è vero anche in Russia comunque in Russia quello che ho voluto vedere con i miei occhi è che loro hanno dei signori che hanno quantum quantum center che è una cosa stanno costruendo una città della scienza vicino a Musca incredibile è l'unico e i laboratori che già funzionano tra i pochi che ci stanno è proprio il quantum center dove si lavora sistematicamente su queste cose con dei risultati affascinati in ogni caso tornando a noi la stabilità dei sistemi quantistici macroscopici accade e alla temperatura ambiente va bene un magnete va bene è stabile malgrado sia un sistema macroscopico che ha le sue basi nella quantità adesso vi faccio vedere qualcosina semplicemente questo è stabile fino a centinaia di gradi se no i motori dei nostri locomotori non camminerebbero mica le coerenze di fase sono a livello microscopico però un magnete è stabile fino a centinaia di gradi un diamante va bene quindi un cristallo di carbonio malgrado la sua struttura si spiega di nuovo con la teoria quantistica dei campi nella stabilità della sua struttura è stabile fino a 4000 gradi va bene e altro che zero assoluto quindi temperature vicine allo zero quindi io devo cambiare il quadro di riferimento il quadro di riferimento si chiama quantità dei quanti quantistici dei campi quantistici termica cioè io non lavoro nella strazione dello zero assoluto perché è solo una strazione ma io lavoro nel mondo reale dove le temperature sono maggiori di zero va bene quindi il allora la stabilità di un sistema studiato in questo modo dipende è stabile la temperatura ambiente perché dipende dall'entame cioè della coerenza di fase col suo ambiente va bene allora adesso vi dico quello che è successo a livello pubblicistico va bene perché vi ho detto che hanno dato il via anche in America a cominciare a parlare di queste cose perché la la rivista di tecnologia dell'MIT ha fatto una gran cassa enorme sul fatto ecco questo è un questo citando dalla dalla da un mio articolo adesso mi stenderà perché devo mandare proprio in questi giorni quindi la novità è che sebbene appunto il comportamento quantistico cioè ondulatorio fosse stato già dimostrato per molecole A grandi grandi molecole è la prima volta che questo comportamento per l'autointerazione come nel famoso esperimento delle due fessure che tutti sapete di quantistica è stata dimostrata per biomolecole fragili cioè i i i mattoni di costruzione della vita a temperatura ambiente quindi il commento è citato della fine del 2019 l'articolo di riferimento che lo metto un tanto sul sito è questo qua aspetta in modo delle applicazioni l'articolo è questo qua va bene la biomolegola è questa qui è questa della gramminicillina che è fatta da quindi una catena di 15 amminoacidi viene usata come un antibiotico e è stato dimostrato che si comporta come un sistema quantistico va bene ding dong da ding dong da anche l'America si è svegliata anche gli Stati Uniti si sono svegliati e soltanto che è stata misurata ed è stato pubblicato l'articolo appena adesso su Nature Communications perché il commento dell'MIT era del 19 perché era stato pubblicato il preprint su Archive va bene e questo è praticamente di marzo è stato pubblicato adesso marzo 2020 va bene quindi vedete matter wave interference cioè ovviamente questi ragionano sempre meccaniche quantistiche quindi è il comportamento particellare ondulatorio allora tutta la buriana che si è scatenata su gruppi Google di discussione ma allora anche la 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 cosa come si dice anche la materia biologica a temperatura ambiente si comporta come un sistema quantistico perché ricordatevi che l'esperimento della doppia fessura anche con grosse biopolecole anche con grosse molecole mai biopole è stato fatto sempre a temperatura vicino allo zero invece questo è un fenomeno quantistico fatto usando campi elettromagnetici quindi diciamo siamo in teoria quantistica elegante vedete questo usando campi elettromagnetici questa che è stata essendo stata messa nel suo ambiente va bene ha si rivelato per quello che era un sistema quantistico cioè il comportamento ondulatorio vuol dire che è un comportamento di campo va bene è un comportamento di campo allora dice ma ma allora i virus potrebbero essere ecco perché anche in questi giorni c'è grande discussione su questo potremmo allora studiare il fatto che il virus si aggancia con una con le molecole organiche è un fatto quantistico ci credo è teoria quantistica legata cioè si sono svegliati anche loro o meglio ripeto io sono sicuro che nei loro laboratori militari queste cose le fanno però quelli non si visitano quindi non lo so hanno deciso adesso che si deve divulgare anche al popolo e quindi cioè la massa dei ricercatori e quindi queste cose si possono cominciare a dire allora questo è l'esempio del magnete no? cioè il magnete è la calamita è qualcosa di macroscopico ma il comportamento macroscopico del magnete dipende a livello microscopico dal fatto che i vettori di magnetizzazione degli atomi che formano il metallo prima erano parandomi sotto l'azione di un campo esterno si allineano e questo mi diventa un magnete vedete il campo esterno vedete i sistemi aperti vedete la fisica della materia condensata vedete perché devo lavorare su un approccio di quantistica dove io lavoro sulla sul reddoppio sistema ambientale e la matematica di queste cose la fisica matematica è stata sviluppata in Italia ovviamente su base di fisica russa ed è il gruppo di professor Biciello all'Università di Salerno con cui collaboro da anni che adesso ci sta portando all'inzionnete di Genova a sviluppare tutta una serie di tecnologie basate su queste idee comunque per capire questo come si collega subito al nostro tema in biologia non è non è più mantenibile la vecchia posizione meccanicistica per cui tutta l'informazione di un organismo adulto questo era un calcolo che aveva fatto Limer che sono 10 alle 17 cellule che stanno in DNA nel nostro caso significherebbe avere informazioni pari a 2 alla 10 alle 17 B va bene l'informazione biologica dell'ontogenesi è generata dall'interazione delle celle con il loro ambiente chimico per esempio per la specializzazione delle cellule mantenendo invariato il DNA questa si chiama epigenetica ed è la biosimiotica di cui parleremo alla prossima incontro alla prossima ora e dove diventa centrale la segnalazione e questo è il segreto della vita ma appunto un segnale sempre una relazione perché si parla di biosimiotica una relazione dinamica fra uso i termini di Kirsch stesso fra un veicolo qualcosa di fisico un referente un oggetto è un interpretante in questo caso il codice va bene quindi per esempio nelle neuroscienze non è più mantenibile la posizione sia vecchia meccanicistica che svolistica che localizza la mente nel cervello la mente è localizzata nel continuo scampo di energia e informazione tra il cervello e il suo ambiente interno cioè il resto del corpo ed esterno e questo è il concetto famoso che oggi si usa nelle neuroscienze di ogni livello della mente stesa cioè nello scambio di energia e informazione fra il cervello e il cervello corpo ambiente che devo collocare quella che chiamavamo mente quindi un'altra applicazione nella neuroetica non è intenibile che sia che il io il soggetto che è responsabile delle decisioni morali sia l'autocoscienza va bene quella di Cartesi o il cervello perché le modificazioni cerebrali dei neuroni sensomotori che sono coinvolti in un'azione libera arrivano sempre prima della nostra consapevolezza ma questo non è allora il cervello che decide quella è l'altra stupidità no vedete l'autocoscienza che decide o il cervello che decide non è nell'autocoscienza nel cervello la persona e la persona è fatta di cervello del suo cervello e dell'ambiente con cui interagisce la persona non è un individuo è un individuo di relazione quindi né la coscienza né il suo cervello sono il soggetto responsabile di un'azione morale chiaro e la consapevolezza ricordatevi è soltanto il top di un iceberg perché gran parte della nostra della nostra azione è inconscia ma non è per questo meno personale infatti poi quando si sta in neurotica bisogna distinguere fra la responsività va bene di me come soggetto e la responsabilità la responsabilità ovviamente ha a che fare con la coscienza ma la responsività è un concetto biologico la responsività di una cellula è quando una cellula risponde adeguatamente al suo ambiente quindi è sana va bene ecco è la responsività e questa è naturalmente anche tutta la questione sull'artificial intelligence perché le macchine non sono responsabili su responsive però siccome sono agenti di comunicazione allora entrano nell'ambito sociale della responsabilità sociale va bene e quindi questa è l'ontologia per la nostra era informazionale quindi io devo tener conto della responsabilità dei soggetti consapevoli degli agenti comunicativi consapevoli e della responsività degli agenti comunicativi inconsapevoli per esempio i loro cervelli o i cervelli artificiali va bene queste sono categorie che richiedono naturalmente una un modo di pensare completamente diverso dal modo di pensare moderno perché dobbiamo passare anche proprio in logica dalla teoria degli insiemi senza quella a cui siamo abituati a quella che si chiama la teoria delle categorie perché tutto in fisica ho fatto l'esempio della quantum mechanics e nella teoria dei computer avanzata è tutta algebra delle relazioni di topologia va bene e quindi c'è la teoria delle categorie che è un metalinguaglio molto più potente della teoria degli insiemi perché include la teoria degli insiemi e ovviamente questo vuol dire che la filosofia formalizzata la formal philosophy va bene deve usare non più la vecchia logica delle classi di freg la filosofia analitica ma la categoria di teori come la sua logica perché questa la categoria di teori include anche la teoria degli insiemi questi sono discorsi molto più qui c'è alcune basi questo era il corso ripeto fatto anche a Enopolis ma il corso che faccio anche di logica 2 e 3 qui a Laterano e la diciamo la teoria ecco questo è il primo manuale che è uscito per filosofi della filosofia formale va bene come evoluzione della filosofia analitica che è molto più potente della filosofia analitica e ovviamente i computer del scientist già lo usavano da parecchio e qui cito sempre questa qui c'è il famoso manuale di la filosofia della logica filosofica perché appunto la logica filosofica non è la logica matematica però questo poi lo vedete ma può essere formalizzata in maniera molto adeguata attraverso la filosofia formale e qui dice appunto Gabby che è un grandissimo logico ma anche teorico della computer science e lui nella prefazione alla seconda edizione di questo mostruoso manuale che è arrivato al 17esimo volume mentre ho lavoro una collettania di lavori dice man mano che la scienza della computer science e l'intelligence artificial intelligence hanno a che fare con processi distribuiti e interattivi col concetto di computazione concorrente con agenti comunitivi cause transizioni comunicazioni e controlli adesso c'è solo per dire alcune cose il ricercatore in quest'area sta avendo sempre più in comune con i filosofi tradizionali che hanno analizzato certe questioni per secoli va bene senza essere distritti come noi computer science dalla capacità dell'hardware io credo che non è lontano il giorno in cui nel futuro un computer science si sveglierà al mattino avendo capito che di fatto è una specie di filosofo formale va bene ecco questo l'ha scritto nel 2002 questa introduzione oggi ecco la forma filosofi questo è uno dei primi manuali di forma filosofi per filosofi non per computer scientist che è stato pubblicato nel 2019 nel 2018 da spring va bene quindi e quindi allora non parlerò se quella è forma filosofi ci avrò la forma l'ontologi la filosofia formale ci avrò l'epistemologia formale ci avrò la deontica formale sia morale sia in filosofia del diritto e che ovviamente diciamo ha un interesse immediato per il computer scientist perché ovviamente prima devi formalizzare una volta formalizzato non puoi algoritmizzare quindi è ovvio che se io devo simulare in artificial intelligence io ho bisogno dell'ontologia formale ma l'ontologia formale è utilissima anche per noi filosofi per confrontare sia per il dialogo interdisciplinare scienza-filosofia sia per il dialogo interculturale perché formalizzando le diverse ontologie trovo il modo per vedere diciamo i punti di differenza e comuni molto più efficienti che per limitarci semplicemente alle parole che sono sempre ambigue e spesso sono da tradurre da un linguaggio all'altro sono pieni di precomprensioni di ideologie di interessi invece se tu formalizzi immediatamente vedi come tu puoi confrontare in maniera efficiente le diverse teorie allora l'ontologia formale per esempio è un linguaggio di programmazione addirittura Oracle ai anni che vende un sistema operativo per trattare sistemi di ontologia formale perché in complete science è usata per la precedente ingegneria della conoscenza cioè per fare la base semantica per esempio il National Institute Proverter negli Stati Uniti usa ontologie formali più nei linguaggi medicali oppure la Stanford Encyclopedia è un filosofo che usa Argonolo Calviti di ontologia formale per tristire la data base in filosofia va bene che ricordate che Husserck ha inventato il termine ontologia formale ma adesso saperemo perché poi si va dall'ontologia formale della fenomenologia all'ontologia formalizzata della teoria delle categorie e della filosofia formale perché in un'ontologia formale nel senso che è andato fin dall'inizio Husserck lavora sui fondamenti della nozione di predicazione che non si riduce alla semplice appartenenza di classe o appartenenza di inziani e ovviamente per Husserck e per la fenomenologia dipende dalla coscienza diciamo per la teoria delle categorie prima che la coscienza dipende dall'algebra delle relazioni sottese l'algebra delle relazioni però è fantastica perché se io ripenso tutta la teoria della predicazione quindi il concetto di insieme di classe eccetera dentro la formalismo dell'algebra della teoria delle categorie io ho un contatto immediato con tutto il formalismo algebrico con cui modellizzo i sistemi fisici ideologici e quello che volete allora immediatamente io ho che diciamo l'algebra matematica del sistema fisico a cui io mi riferisco quando costruisco un'ontologia formale che parla di quegli oggetti va bene siccome la mia ontologia formale la logica della mia ontologia formale usa lo stesso formalismo algebrico grazie alla teoria delle categorie per formalizzare il suo linguaggio immediatamente ho un omorfismo io posso mappare questo su questo o questo su questo va bene quindi la logica sulla realtà la realtà sulla logica ecco questa è la base di un'ontologia formale del realismo naturale va bene allora io e qui finisco l'introduzione e in ontologia formale la base delle diverse ontologie quindi attraverso la teoria della predicazione poi finisco solo questo e facciamoci un periodo di pausa dopo in più invece abbiamo il nominalismo cioè che gli universali predicabili cioè alla base della predicazione sono ridotti alle espressioni predicative di un linguaggio che attraverso le sue regole convenzionali determina le condizioni di verità delle proposizioni ontologiche questi sono i sofisti sono se volete i nominalisti in generale tutta la polemica medievale e fra i contemporanei possiamo vedere qua anche a te è un signor filosofo è un signor logico e così via poi ci sono tutti i parolai noi nominalisti sono tutti i parolai di cui è piena la nostra cultura e tutti i relativisti tutti i visti che volete e poi c'è il concettualismo che non esisteva nell'antichità perché nell'antichità c'era solo nominalismo e teorismo nella modernità ci siamo inventanti che il fondamento della verità è l'evidenza e quindi il fondamento della verità della predicazione il soggetto trascendentale campiano o serliano dipende da un soggetto conscio individuale o collettivo così che le leggi del pensiero determinano le condizioni di verità delle preposizioni ontologiche e questo è il modo di pensare di Kant di Rousse tutta la scuola anche fenomenologica poi c'è il realismo cioè gli universali predicabili sono espressioni di proprietà e relazioni che esistono indipendentemente dalle capacità linguistiche e o mentali concettualismo va bene o in un regno logico va bene e quindi abbiamo le ontologie del platonismo insomma nel neoplatonismo nel cosiddetto realismo logico dove le logiche le relazioni logiche determinano che esistono indipendentemente dalle menti e da linguaggi determinano le condizioni di verità delle preposizioni ontologiche e abbiamo Platone e abbiamo Frege poi abbiamo anche Frenkel chi è Frenkel è quello di Zermelo Frenkel cioè che si usa normalmente in matematica e in logica e abbiamo Pochetti che era un antropolotonista possiamo recitare anche il professor De Giorgi uno dei fondatori dell'Iras che è un grandissimo matematico del novecento oppure abbiamo il realismo naturalista cioè le espressioni predicative del linguaggio e della logica si riferiscono a proprietà e relazioni che esistono nella realtà nel regno fisico questo è il realismo naturale o naturalismo e a sua volta il naturalismo può essere di due tipi o atomistico cioè dove non distinguiamo fra diciamo per dirla estotilicamente fra essenza accidente fra proprietà che proprietà accidentali va bene e proprietà che invece fanno parte della natura e che quindi sono necessarie per determinati oggetti però quindi se tu c'è un realismo naturalista tipo atomistico un ambientato atomismo logico tu stai considerando la meccanica va bene quella di Newton e statistica come la fisica fondamentale dove le regole combinatorie per aggregare gli elementi va bene ricordatevi appunto l'atomismo ultimamente determinano le leggi matematiche tutta logica combinatoria pensate alla teoria degli insiemi quella standard che si usa pensate al teorema di Cantor eccetera eccetera messo come fondamento dell'insieme perché quella è una combinatoria mentre invece tutto l'approccio di teoria della categoria degli insiemi dice giustamente non è vero Cantor non è partito dal teorema di Cantor per giustificare il suo insieme ma il concetto di isomorfismo quindi da un concetto di algebra relazionale l'isomorfismo è l'isomorfismo che Kant cercava quando cercava l'isomorfismo nei suoi famosi lavori dell'inipotenza dell'insieme dei numeri razionali con l'insieme dei numeri naturali quindi il numerabile la numerabilità dei reali lui l'insieme è stata ispirata dall'isomorfismo non dal teorema di Cantor della combinazione degli elementi va bene quello quella interpretazione lì degli insiemi è quella di Russell del rewited dei principi va bene allora la la teoria degli insiemi della teoria della categoria invece parte dagli isomorfismi dove quindi gli elementi dell'insieme non sono dei primitivi ma esistono solo esistono solo come domini e codomini di relazioni di isomorfismo e allora questa è la matematica che serve per la teoria quantistica dei campi perché quando stanno in fase quello sono un nuovo uno va bene non perché gli elementi sono spariti ma sono componenti di un'unità più grande quando invece si riconentizza la fase allora io lavoro su gli elementi però allora vuol dire che gli elementi se io devo avere una matematica dove gli insiemi non suppongono che gli elementi sono dei primitivi ma gli elementi esistono attualmente e potenzialmente quindi necessariamente analogica modale in base alle relazioni su gli insiemi va bene quindi questo si chiama OM7 cioè l'omomorfismo il morfismo è il fondamento anche della cardinalità degli insiemi nel teorema di scoprire c'è un un corollario che dice che la che la sarebbe accettare che dice che la cardinalità di un insieme dipende dall'algebra che ci definisco sopra va bene e questo è enorme tu non lo dici questo non lo giustifichi con gli insiemi classici in cui gli elementi sono primitivi va bene ma lo giustifico con il concetto di OM7 cioè la cardinalità dipende dall'algebra di questa in ogni caso questo è l'altro approccio relazionale cioè dove noi abbiamo dei generi naturali che a Pirsi li chiamava i generali perché le relazioni reali cause fra il genere delle cose ultimamente determinano le relazioni logiche fra le classi di oggetti nel linguaggio e quindi le condizioni di verità delle proposizioni ontologiche questa è la logica dell'adeguazio come conformitas è il termine di Tommaso la conformità della logica della mia proposizione del giudizio conforme omomorfismo con la struttura formale della realtà a cui la proposizione si riferisce va bene e questo lo modellismi in teoria delle categorie come un omomorfismo fra strutture algebriche una fisico-matematica e l'altra algebrico-logica ok e come vedete qui la coscienza non c'entra in ok è una coscienza è un logo e questo è lo vedremo come c'entra la coscienza e questo è il realismo naturalista relazionale oggi si chiama ontic structural realism ontic structural realism andate sulla Stanford enciclopedia e guardate il concetto di realismo strutturale che viene appunto dall'angebra degli operatori come 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 formalismo con cui tu lavori normalmente oggi in fisica ma anche in computer science qui vi ho messo chi sono i rappresentanti di realismo naturale relazionale che sono Aristotele Tommaso e Giovanni di San Tommaso di Lillie è un tomista un filosofo tomista americano purtroppo è morto qualche anno fa che ha ripensato San Tommaso dentro Giovanni di San Tommaso e Crif allora questo è lo schema ontologia nominalismo il convenzionalismo il nichilismo il relativismo tutti gli lismi dei parolai che mi servono il concettualismo la coscienza come fondamento della verità in evidenza il realismo che può essere logico platonismo naturalista e questo può essere atomista andate a Mogrido al primo vita è una Carnap o relazionale va bene e chiaramente l'ontologia della vita che pare che lavora su campi e sugli entanglamenti fra sistema e ambiente è chiaramente un'ontologia relazionale ci fermiamo qua un attimo scusate che riprendiamo fra cinque minuti adesso facciamo una pausa allora passiamo sia la registrazione un attimo il corso il seminario finisce alle 12 e 45 alle 12 lo so adesso facciamo una pausa no volevo chiedere volevo chiedere aspetta un attimo che devo fare un attimo di pausa e ritorno su un attimo un momento e con il secondo gruppo di slide quelle di prima erano le produttive legate alla diciamo alla semiotica perché poi e quindi alla biosemiotica va bene la semiotica di Pierce e poi con la sua applicazione ai processi vitali che va sotto il nome di biosemiotica e allora vabbè questo è sempre lo schema stiamo in questa ontologia qui di tipo relazionare della vita allora generalmente quando in filosofia noi parliamo della svolta linguistica noi pensiamo sempre a Frege e a Wittgenstein però appunto sia Frege col concetto di insieme che ha a che fare con un atto di comprensione concettuale che mette insieme gli elementi dove vedete la coscienza e l'intelletto che mette insieme gli elementi e non le proprietà dell'algebra che sto che sto esaminando come quando lavoro in teoria delle categorie con coprodotti e colimiti adesso non vi faccio in teoria delle categorie con queste nozioni e ugualmente per Wittgenstein se vi ricordate io parlo del primo Wittgenstein quello dei principi scusate quello del trattatus che è praticamente la versione filosofica dei principi dove lui dice che appunto gli genunciati elementari che poi appunto mette insieme nelle teorie sono relativi a atti di percezione del reale del mondo dei fatti reali quindi è una svolta linguistica incompleta perché di fatto poi ha sempre a che fare con la con la con la conoscenza umana va bene è sempre quindi una svolta linguistica fra incompleta perché non ha non è un completamento un completo svincolarsi dal concettualismo moderno ma ha sempre a che fare o con un atto intellettivo o con la freghe perché lui è un platonista un realista logico quindi un atto intellettivo o con un atto di empirico di conoscenza empirica no? tant'è vero che è vero che poi il trattato si è stato usato da un movimento europeo di vista per la sua polemica contro e contro la metafisica la filosofia perché appunto è la verità di una proposizione dipende dai metodi per la sua verifica empirica ma bene quindi hanno a che fare con l'osservazione quindi la la svolta linguistica è completa in freghe e in in Wittes è stata invece completa nel sistema e nell'approccio semiotico di Peirce allora per capire Peirce e il fatto che qui stiamo lavorando sul fondamento dei predicati della verità della predicazione il logica bisogna capire come Husserl e Peirce che non si sono mai parlati non si conoscevano credo neanche perché uno stava a Gotting all'altro stava negli Stati Uniti quindi non risulta che avessero mai comunicato perché uno sapesse che all'altro esisteva ma il il collegamento c'è perché questo approccio della teoria delle categorie e quindi tutto l'algebra degli operatori dipende ultimamente da Peirce perché Peirce è che ha inventato l'algebra delle relazioni è inventato lui non esisteva prima di Peirce l'algebra delle relazioni allora la teoria delle categorie appunto nella sua applicazione logica ti dà la possibilità di studiare a livello antepredicativo e quindi diciamo prelogico logica di criticati i fondamenti algebrici della predicazione che è quello che ci interessa da un punto di vista ontologico ora la sua appunto questo è un giudizio di Heller che era il consigliere scientifico di Papa Giovanni Paolo II anzi San Papa Giovanni Paolo II che gli organizzava tutte le stagioni dei seminari a Scassa in Gandolfo con cui Papa si aggiornava continuamente sulla ricerca più ultima come faceva già quando era insegnava a Gregoria e ripeto era sempre Eller che è il professore a Gregoria che gli organizzava tutti questi eventi e anche Eller è d'accordo con me che la categoria di teori è il futuro della filosofia e la teoria delle categorie ti permette di esprimere in algebra anche la teoria delle categorie classiche legate alla predicazione perché ricordiamoci che le categorie in senso algebrico non sono le categorie in senso predicativo cioè i più generali dei predicati ma sono il fondamento algebrico della predicazione in generale in ogni caso questo risultato era stato anticipato cioè lavorare sul fondamento anche predicativo della logica o prelogico era stata anticipata alla fine del XIX secolo da Husserl da una parte e da Peirce per il loro convergente anche se indipendente critica all'algebra della logica di Schroeder l'algebra della logica di Schroeder è stato il primo tentativo diciamo storicamente anche prima di Frege di scrivere una logica matematica nella modernità soltanto che diversamente da Frege Schroeder usava la algebra e quindi lui proponeva praticamente una teoria degli insami basata sull'algebra ma l'algebra di Bull è basata sul concetto di insieme numerabile e quindi poi è caduta nella critica del teorema di Levenheim e Scholem perché perché se tu usi l'algebra di Bull come che lavora su insiemi numerabili supponendo la numerabilità ovviamente come fai a trattare i insiemi non numerabili quali sono l'insieme di numeri reali ecco il collegamento con il canto la non numerabilità dell'insieme dei reali complessi che poi sono gli insiemi che servono ai matematici allora è stato un alunno di Schroeder cioè Levenheim in Scholem ma anche se era stato il risultato anticipato Levenheim a scrivere l'impossibilità di fare un'algebra della logica che fosse con cui io potevo fare una logica matematica insiemistica perché perché io con quell'algebra lì non riuscivo a giustificare l'esistenza di insiemi non numerabili va bene quali l'insieme dei reali tanto è vero che Scholem pensava non si può fare l'algebra della logica invece Zermero disse no non c'è bisogno io certo non posso usare l'algebra della logica però posso usare una teoria dell'insieme cioè la sua Zermero Frenkel che sebbene tutte le gestioni della teoria dell'insieme Zermero Frenkel siano tutte formule del primo ordine quindi diciamo funzioni predicanti che hanno per argomento individui la semantica nulla posso fare appunto al primo ordine perché se no ricasco nel teorema di Scholem e poi nel teorema di Ketel intanto quel teorema di Scholem è un corollario del teorema di Ketel anche se è stato dimostrato prima e allora cosa devo fare? Devo andare a una logica del secondo ordine quindi posso fare una semantica in civistica della matematica della logica usando logica del secondo ordine quindi posso fare una logica matematica anche senza gli insiemi algebrici booleani di Schroeder in ogni caso la critica all'algebra della logica di Schroeder a parte del risultato di Scholem del 21 era stata già anticipata da una parte da Husserle e dall'altra da Peirce perché erano due critiche convergenti perché tutte e due sottolineavano che usando l'algebra della logica di Schroeder il ton non riesce a giustificare la nozione di significanza va bene la stessa costituzione dei domini delle funzioni cioè della sua semantica il concetto di significanza in qualche modo viene prima della semantica perché la semantica è una significanza definita su classi o insiemi ma il concetto di cosa significa significare in questo gioco dei termini in qualche modo viene prima e il diciamo chi è che dà significato alle formule logiche predicative va bene ci vuole un terzo termine va bene e questa è la differenza che per Husserl è un interpreter cioè un soggetto cosciente per Peirce è un interpretant e attenzione lui ha inventato questo neologismo che non esisteva in inglese prima di Lucchi proprio per dire che la coscienza non c'è niente a che fare è semplicemente di passare da un'algebra diatica a due termini come finora erano state solo le relazioni perché le relazioni ricordate da Aristotele che le definiva ricordate la categoria delle relazioni un S-Ad quindi è diatica va bene la relazione intensicamente diatica a Bull che è diatica a Schroeder che è diatica Peirce è stato il primo a dire no il fondamento della significanza delle stesse relazioni diatiche sta in una struttura triatica della relazione va bene ci vuole il terzo soltanto che non deve essere cosciente perché è un problema di algebra prima che di epistemologia o di logica e la significanza del simbolo va bene prima della sua semantica per capirci allora è indipendente appunto per questo vedete tutte e due facciamo riferimento a un terzo però Husserl affermava che questo termine deve essere decisamente un interpretere cioè un soggetto trascendentale conoscente anche se di tipo intenzionale va bene e non come quello di Kant perché è sempre la relazione soggetto oggetto vedete però vedete la relazione soggetto oggetto biatica però dentro una coscienza il terzo termine include soggetto oggetto va bene attenzione questa triadicità dell'ontologia formale fenomenologica sta già in Husserl va bene e soprattutto è stata esplicita di Stein adesso adesso io non voglio entrare in queste cose c'è un altro articolo che ho scritto su questo Peirce invece ha inventato il neologismo interpretant proprio per affermare che questo terzo termine che fa rende significativa perché triadica la relazione diadica soggetto predicato cioè funzione argomento in matematica soggetto predicato o predicato dominio in logica è indipendente da ogni conoscente quindi garante irriducibile delle relazioni triadiche che poi ha portato Taschi dopo che aveva dimostrato la sua famosa sua teoria dei modelli la necessità del metalinguaggio per fare una semantica quindi anticipato i lavori di Gede lo stesso che il termine Gede è proprio subito dopo e il lavoro di Zermelo con il passaggio alle logiche del secondo ordine eccetera fa parte di tutto Taschi in questo senso fa parte di tutto il grande gruppo dello sviluppo della logica matematica della logica formale del novecento Taschi Gede sono i grandi però mentre Gede è rimasto lì non è Taschi ha detto vabbè usciamo dal piccolo cieco e per questo che cosa fa? ha preso la teoria di Peirce questo è storico quello ricostruito che non so lui è storico storia della logica ha preso la teoria di Peirce che ha inventato l'algebra delle relazioni perché? perché ha detto che le relazioni fondamentali non sono quelle diatiche ma in algebra sono quelle diatiche e quindi ha aperto il mondo va bene perché nessuno mai aveva pensato a una relazione riducibile che fosse diatiche e non diatiche scusate questo è talmente vero nella scolastica per esempio che è sempre ma me è colpito che siccome le relazioni sono diatiche San Tommaso per dire l'inseità di una sostanza cioè il fatto che una relazione significa che una sostanza per questo sostanza sub sta il gode di una proprietà riflessiva cioè è in sé va bene poi come forma è anche per sé però da un punto di vista della sostanza è l'inseità della sostanza San Tommaso era talmente sopraffino nella sua analisi che non ha detto relazio ad semidipsum relazione a se stesso perché? perché una relazione a se stesso è monarica mi scrive un solo termine va bene S di X non S di X di Y va bene è monarica invece tutte le relazioni devono essere per forza un S ad ad aiud quindi mai ad semidipsum e allora si è inventato il termine redizio redizio ad semidipsum perché relazio ad semidipsum non si poteva dire perché tutte le relazioni devono essere diadiche ad aliud se no non è una relazione va bene pensate un po' ecco allora ecco perché perché Pierce ha inventato l'algebra delle relazioni perché ha detto una cosa enorme fondamentale la relazione per essere significante e allora torniamo alla teoria dei segnali per essere significante deve essere triadica altrimenti non significherà poi faremo pure la semantica e tutto quello che vi pare questa allora è la fondazione semiotica della logica e della matematica e questo è stato Pierce e quindi tanti che ha fatto ha preso la teoria di Pierce che era molto confusante pensate a tutto quello che i filosofi sono potuti inventare quando cercano di spiegare Pierce senza riferirsi alla base algebrica della sua teoria e ha preso l'intuizione di Pierce che lui considerava uno dei più grandi filosofi e uno dei più grandi logici matematici dell'Ottocento e l'ha formalizzata in un calcolo delle relazioni e poi ci ha riscritto la teoria dei fondamenti della matematica degli insiemi usando logiche triadiche va bene è l'ultimo logico che ha fatto Tarski prima di quindi da qui poi è nata la teoria delle categorie va bene cioè avendo assomalizzato l'intuizione di Pierce in un calcolo delle relazioni ovviamente poi il matematico c'è lo strumento va bene per sviluppare la teoria delle categorie e quindi qui vi metto anche tutta l'idea però qui vedete che c'è già l'idea del mirroring scusate io ve lo leggo nella faticosità della concettualizzazione di Pierce ovviamente che adesso noi che abbiamo tutta la sematizzazione che ne ha fatto Tarski diventa diventa banale capirlo ma se uno ci prova senza questo background dietro si impicca quindi sulla definizione della logica la logica è una sematica formale un segno è qualcosa A che porta qualcosa B il suo segno interpretante determinato creato da esso nella stessa sorta di corrispondenza o in qualche modo o anche di tipo più basso di tipo due segni quindi corrispondenza anche a un livello più basso con qualcosa C il suo oggetto e che in sé sta e che sta in sé stesso rispetto a C questa definizione non richiede nessun riferimento al pensiero umano più che lo richieda la definizione di una linea come posto in cui una una particella si trova durante un certo lasso di tempo cioè è la mente che usa queste questa algebra delle relazioni va bene e anzi alla sua capacità cognitiva dipende da questa da questa relazionalità non viceversa e poi va bene finisco questa vedete questa algebra delle relazioni che sta in questo famoso testo questo è il testo con cui lui faceva la critica a Schroeder era una recensione del libro di Schroeder la logica dei relativi va bene e la e qui è spiegato molto bene questo testo la relazione riducibile in algebra nella logica sono non le diatiche ma la triatica parlando molto semplicemente soggetto e predicato cioè una relazione diatica che sarebbero i predicati monatici dell'aget di B ricordate che l'aget di B è un'aget per proposizione una logica proposizionale per renderla alla logica dei predicati invece di lavorare su A e B deve lavorare su A e non A allora diventa predicativa comunque e quindi i predicati monatici non ha giocato di B significano nella misura in cui ambe e due sono in una relazione rispecchiata con un terzo l'interpretante vedete A è qualcosa che porta a qualcos'altro cioè B il suo segno interpretante che è determinato o creato da esso nella stessa sorta di corrispondenza col terzo C vedete allora l'A che sarebbe il veicolo è quello che fa sì che B l'interpretante sia nella stessa relazione con C l'oggetto che c'ha pensate quello che ha detto lui questo ha detto va bene andatevelo a rileggere là dentro ma lo schema è questo quindi vedete che il discorso del micro va bene il segno è quello che fa rispecchiare va bene il segno A è ciò che fa rispecchiare B in C esattamente come A il segno si rispecchia con C vedete che sono tre diciamo così nel caso della intero-pantistica dei campi c'è un sistema ambiente l'intanglement che fa sì che uno si rispecchia nell'altro soddisfacendo un bilancio energetico che guarda caso è un rivoltamento delle frecce quindi per sé io qui c'è davvero una struttura algebrica che giustifica questo e qui c'è una coagebra e qui c'è un'algebra perché questo è il mirroring cioè è il reverse è il rispecchiamento a direzioni inverse della stessa struttura che sta qua perché qui c'è genere specie o specie individuo quindi la coappartenenza della coagebra che rispecchiata di qua diventa l'appartenenza della sottospecie alla specie o dell'individuo scusate della sottoglasse alla classe o dell'individuo alla classe vedete è un omorfismo controvariante si chiamano così in teoria delle categorie però l'intuizione è quella del rispecchiamento di quindi l'interpretante è un omorfismo essenzialmente una relazione di omorfismo che mantiene la la mappa la struttura quindi una mappa che mantiene la struttura anche a costo di rivoltare la relazione va bene e quindi adesso saltando il resto poi ve lo leggo da solito chiede dottorandi allora la grande scoperta che ha fatto Luigi che era un filosofo tonista diciamo semiotico è che questa idea era stata già anticipata da un contemporaneo di di Cartesio che dava un'interpretazione non concettualista della scolastica purtroppo nella modernità prevalso l'interpretazione concettualista va bene l'interpretazione ovviamente del cardinal Cagliatano che era un tomista anche lui e poi nell'ambito non tomista nella scolastica gesuita di di Suarez che ricordate che Suarez nella sua tabla dei trascendentali sostituisce res di Tommaso la cosa con obiettum vedete il concettualismo una res esiste indipendentemente da un soggetto conoscente l'obiettum non esiste indipendentemente dal soggetto conoscente vedete il concettualismo e così pure tutta la spiegazione dell'analogia nel Cagliatano ma sempre a che fare con il concetto va bene ora siccome questo poi era consonante questa lettura della scolastica di Tommaso era consonante con Cartesio va bene e allora è quella che è andata avanti in tutto l'età moderna pensate a tutto quello che è scritto in verità rispettabilissimo un maritene sull'evidenza come fondamento della verità vedete il concettualismo ma in San Tommaso lui non c'era manco il termine coscienza per lui la coscienza era solo quella morale va bene ma non ha niente a che fare con l'atto cognitivo in quanto tale io qui cito sempre l'articolo primo della questione delle verità è vero che l'ense primum cognitum va bene l'ense è il primum cognitum ah dice vedi questo è il maritene la coscienza la conoscenza quindi l'ente che suppone l'atto cognitivo suppone l'atto cosciente va bene però poi quel paragrafo cioè che è la risposta alla prima alla prima questa insomma la prima domanda mi è per porto fra la verità è lente e finisce enzo primum cognitum sed cognitio effetus quidam veritatis la verità è nella corrispondenza linguistica fra il giudizio o la proposizione e la realtà questa corrispondenza è una corrispondenza formale nella verità te la dovrete tante volte conformi i tasti è un omomorfismo allora Giovanni di Sant'Ommaso che era un dominicano non era un cardinale come contemporaneo ricartese quindi dopo cagliata lui era professore oscuro professore all'università di Lovagno e lui ha dato un'interpretazione semiotica di Tommaso va bene tenete presente che Pirs non si è mai eletto non si è mai eletto John Ponsor cioè Giovanni di Sant'Ommaso John Ponsor era l'ordine dellaico Giovanni di Sant'Ommaso era un religioso dominicano allora lui ha scritto il primo trattato moderno sulla dire del segno va bene il designis e questo lui la richiama la protosemiotica cioè l'idea è questa diciamo qui ho le categorie reali cioè generi e specie specie e individui vedete che vanno in giù dal più generale al più particolare va bene qui c'è le categorie concettuali va bene e l'induzione dal particolare all'universale vedete l'omomorfismo contro variante ecco perché poi noi quando lavoriamo in algebra delle categorie interiore le categorie ecco l'algebra degli operatori di qua io c'è una co-algebra co-induzione va bene che va in giù e di qui c'è la classica induzione algebrica va bene che va in su diciamo qui xn più 1 funzione di xn necessario qui xn meno 1 funzione di xn qui scendi cioè specifici va bene e se io non posso entrare nella formalizzazione però l'eco-algebra è esattamente quello che mi serve in teoria quantistica dei campi termici per rappresentare il raddoppio nel sistema ambiente perché la co-algebra le coprodotti in co-algebra sono zone adesso allora quando devo fare il bilancio energetico devo sommare le due energie e se c'è il bilancio ovviamente la somma è nulla ok il che vuol dire che il sistema è intanglete con l'ambiente quindi c'è il minimo dell'energia libera quindi il massimo dell'introvia dell'informazione questa è la base del concetto di informazione semantica adesso poi ve lo faccio vedere e il quindi l'introvia dei sistemi fuori dall'equilibrio quindi non è l'introvia all'equilibrio al polso ma nella termodinamica di Y che sono tutte all'equilibrio questo è fuori dall'equilibrio fuori dall'equilibrio ma in bilancio a terra va bene e tu lo modellizzi con i coprodotti di una coagina ok allora questo è in fisica in fisica quantistica in periodo quantistica dei campi termici quindi fuori dall'equilibrio sistemi dissipativi che scambiano con l'ambiente allora qui c'è questa struttura va bene allora dicevo che Gianni Sant'Omaso qui c'è la relazione reale della quindi causale della cosa sui organi di senso e qui c'è diciamo questa funzione riflessiva che è la prima intenzione di Dommaso va bene e che diciamo è ciò di cui sono consapevole quando mi riferisco alla cosa va bene non è la coscienza è riferimento alla cosa di cui sono consapevole ok e questa è anche la coscienza animale perché è riferimento alla cosa nei sensi ok allora qui c'ho la relazione reale qui dentro se faccio una seconda riflessione quindi è la famosa coscienza autocoscienza c'ho le relazioni razionali e qui c'ho le relazioni nel linguaggio che sono quelle che mettono insieme adesso dimenticatevi questa seconda relazione che San Tommaso chiama la seconda riflessio dell'autocoscienza va bene pensate solo alla prima quella che è comune anche al fatto che i sensi dell'animale conoscono la realtà va bene questa è una riflessione semplice va bene che mappa semplicemente questa relazione la mappa in maniera controvariante vedete cambia direzione nel linguaggio e quindi poi vedi se il linguaggio corrisponde alla realtà è il motivo per cui io dico sempre agli studenti ricordatevi che voi pensate prima di scrivere se già sapete va bene ma quando io devo capire una cosa nuova la certezza che ho capito è se la so scrivere la relazione quindi in un certo senso prima viene il linguaggio ecco la svolta linguistica completa prima viene il linguaggio e poi pensiamo perché solo se formulo il giudizio direbbe Tommaso e quindi so scrivere la relazione che mi interessa ho capito quando noi dobbiamo capire qualcosa di nuovo lo dobbiamo dire a noi stessi perché io prima ho la intuizione ho capito che hai capito quando tu lo ridici a te stesso ti accorgi se hai capito veramente o no ma vedete perché soltanto quando la esprimo nel linguaggio anche nel linguaggio interiore il verbo mentis è famoso anche quando la esprimo nel linguaggio allora mi posso rendere conto della corrispondenza però la corrispondenza ha relazioni rovesciate e quindi lui chiama relazioni trascendentali queste linguistiche perché in qualche modo tutte le relazioni categoriali cioè queste qua concettuali va bene dipendono da questa relazione trascendentale e le chiama trascendentale proprio perché trascende le concettualizzazioni trascende le categorie concettuali va bene come l'essere che è trascendentale quindi c'è tutta la polemica fra scudisti e tornisti ma da un dottorato bellissimo che verrà discusso per un poco ovviamente si dimostra che scudista non era scudista insomma come è ovvio quando la donna non era protagonista e quando la donna non era protagonista che la scuola non è sempre una banalizzazione della genialità del maestro allora quindi tutte le tutte le contrapposizioni fra scudisti e tomisti qui vanno partecipate anche guanzò e ovviamente contro gli scudisti che il concetto di relazione trascendentale che nello scudismo è la relazione fra la creatura e il creatore va bene ecco non potesse essere usate in metafisica ma invece le usa guanzò nel linguaggio va bene e qui è la citazione è la traduzione che ha fatto Didi ha fatto la tesi di dottorato su guanzò e poi ha pubblicato una versione bilingue in inglese e latino del design allora nella traduzione di Didi la relazione trascendentale che non è nient'altro che una relazione nel linguaggio non ha il significato principale di relazione va bene perché perché non appartiene alla categoria delle relazioni perché non è diatica la vedete che non è diatica va bene è ciò che pone in relazione va bene ma qualcosa di assoluto cioè non relativo al quale qualche relazione può essere attribuita è l'interpretante va bene l'interpretante di Didi cioè tu puoi attribuire il concetto di relazione razionale o di relazione reale ok solo a qualcosa che è terzo rispetto a questi due perché queste due sono sia la relazione reale sia la relazione razionale sia tutte le due diatiche fattengono alla categoria delle relazioni la relazione linguistica va bene siccome si applica su tutte le categorie non solo sulla categoria di relazione trascende tutte le categorie quindi non appartiene a è un assoluto rispetto alle altre categorie che tutte le altre categorie concettuali o reali va bene e quando devono venire conosciute suppongono che prima le abbia costituite nel linguaggio che allora diventa la relazione trascendentale rispetto a cui esistono le relazioni concettuali ed esiste anche il loro riferimento alle relazioni reali infatti se non implicasse la relazione del linguaggio qualcosa di assoluto non sarebbe trascendentale ecco guardate che bello ranging over different categorie va bene e chi ha il suo range vedete questo è trascendentale cioè si applica a tutte le categorie quella è la traduzione in inglese va bene ok quindi diciamo così la relazione linguistica ha per dominio ranging tutte le altre categorie bellissimo il latino di secondo noi diciamo ranging in inglese bellissimo il latino di cani da domani i test vagans per diversa genera ma apparterebbe a una sola categoria vedete la genialità vedete la priaticità però allo stesso tempo perché gli serve a dir per mettere relazione diciamo la coscienza con la realtà perché se tu mi parti dalla coscienza sei finito e la coscienza muori va bene al mio realismo se invece mi dici che la coscienza è preceduta va bene da questa relazione cioè quella che diciamo è del giudizio cioè che la veritas del giudizio viene prima della conoscenza della verità del giudizio ok allora c'è la possibilità di mettere in relazione la conoscenza la coscienza con la realtà va bene ovviamente noi tutto questo oggi lo possiamo formalizzare in teoria delle categorie lavorando sull'algebra degli operatori applicata sia in logica sia in fisica o in matematica e lavorando con omorfismi va bene fra una modellizzazione coalgebrica della realtà e una modellizzazione algebrica della logica va bene e con questo un attimo ci fermiamo perché poi facciamo l'ultima ora magari forse finiamo all'una l'ultima ora in cui facciamo la parte similatica della biologia va bene però spero di avervi dato almeno le infezioni fondamentali e il resto poi ve lo trovate nella bibliografia o nel resto del corso quello di dove si approfondisce anche tutta la parte quantistica della verità quantistica dei campi e così via una sola cosa ma qui però con linguaggio si intende la struttura formale la struttura formale del linguaggio esatto la struttura formale del linguaggio è la conformita quella di quasi quindi l'artefatto linguistico quindi il simbolo nostro si può convenzionale è convenzionale infatti infatti se io uso la linguistica per esempio del sostor la linguistica il linguaggio in quanto tale è convenzionale quindi mi fa cadere l'ennominalismo che tutti i linguaggi per definizione sono convenzionali quindi è la è la sulla struttura algebrica della logica di qualsiasi linguaggio però c'è questi risultati quindi è la forma proprio allo stato è la forma allo stato muro diciamo la scienza tra virgolette in cui oggi lavoro con le forme sono altre perché in algebra io ho relazioni formali ho morfismo e quindi è il morfismo che costituisce poi la referenza reale dell'artefatto linguistico quello che s'ha tornato chiamava il verbum oris il verbum oris ma anche il verbum mentis anche il verbum il verbum mentis inconsapevole diciamo così la la struttura linguistica diciamo così è inconsapevole no lui dice l'intelletto agente è inconsapevole l'altro dell'intelletto agente io ho solo il risultato va bene quando l'intelletto agente attiva diciamo così l'intelletto possibile allora divento consapevole e questa è la consapevolezza cioè perché l'intelletto possibile che fa produce il giudizio cioè il linguaggio chiaramente è un linguaggio interno ma sempre il giudizio va bene quando io dico a me stesso quello che pensavo d'avere capito sì certo la lampadina che si accende ah ho capito l'intelletto agente che diciamo illumina ok l'intelletto possibile lampadina che si accende nei fumetti ah ho capito poi ti accorgi che finché non dice a te stesso quello che credi d'avere capito non hai capito ecco perché è il linguaggio delle prima della conoscenza perché solo quando esprimo a me stesso quello che suppongo di aver capito so se ho capito o no va bene ora questo però lo devo vedere per non cadere nel convenzionalismo lo devo vedere ma attenzione che se guardate il De Sussurra nello stesso linguistica trattato linguistica generale poi lui è ovviamente tutto viatico lui dice attenzione ci sono però i simboli diciamo così pittorici che in qualche maniera vengono prima vengono prima delle relazioni linguistiche ok e lui fa proprio l'esempio della bilancia cioè la bilancia va bene ma leggere il trattato la bilancia è questo simbolo che ha questa struttura come simbolo pittorico ha questa struttura triatica perché mentre i linguaggi hanno a che fare con la convenzione dei soggetti che comunicano questi simboli primordiali Jung parlerebbe di cose come si dice di questi simboli gli archetiche bravo parterebbe degli archetipi ci sono dei simboli archetipi che hanno a che fare con la realtà perché la bilancia è sempre con i piatti che corrispondono ti rende pittoricamente prima delle varie idee di giustizia ciò che la giustizia è sì però c'è un punto di fatto che Jung che andava in questa direzione diceva che in realtà l'archetipo è una struttura formale soggiacente alla formazione del simbolo convenzionale che lui chiamava l'immagine archetipica è il simbolo è sempre lo stesso perché significa domesticamente parlando l'archetipo sì sì siamo in questa linea insomma però per dirvi che anche in De Sussurre c'è questo riferimento al simbolo archetipico insomma che è quello della giustizia della bilancia che lui è l'esempio che fa che viene prima del convenzionalismo dei vari linguaggi sì sì e questo solo per una curiosità insomma e allora un attimo che stiamo là un attimo appunto cominciamo fra un minuto o due un attimo solo da albato da riuso bene allora riprendiamo la lezione con l'altra dispensa eccola qua va bene qui vediamo praticamente mi fermo purtroppo non faccio un tempo a farvi il discorso dell'intelligenza artificiale ma poi lo trovate nella per esempio nelle dispense nel mio corso su neuroscienze cognitive stanno a disposizione insomma e vi vorrei aver fatto vedere quelle insomma allora e qui vi faccio appunto per collegare diciamo la biologia alle scienze dell'artificiale quindi a tutte poi le simulazioni che posso fare ovviamente utilizzando delle tecniche appunto cibernetiche di simulazione allora qui io faccio una proprio una storia uno schema della storia della cibernetica dunque quella cibernetica è stata inventata inventata proprio così come disciplina matematica da Norbert Wiener per cui noi dobbiamo specialmente in Europa dobbiamo essere riconoscenti dei secoli dei secoli perché se abbiamo vinto la seconda guerra mondiale qui in Europa a parte la bomba atomica negli americani con i giapponesi e grazie a lui perché vi sarete sempre domandati come mai gli alleati hanno potuto radere al suolo la Germania con i bombardamenti mentre invece i tedeschi per riuscire non hanno mai era sanzuolo ma era sanzuolo l'Ondra ma o l'Inghilterra ma hanno dovuto usare gli U2 i missili per poter bombardare il Regno Unito come mai questo non si dice ma o meglio non si dice spesso e grazie a questo signore che era un matematico americano prestato agli alleati inglesi e tutto questo lo so perché io ho fatto la tesi di laurea alla stradale appunto in cui ho messo in correlazione da un maso con le redini orali che era l'oggetto della tesi di laurea perché l'ho fatto su un autore Donald McRimmon McKay che a quei tempi era uno studente di Wiener era uno studente dell'Holkings College di Londra che però lavorava appunto con Wiener ai radar perché in realtà c'erano anche i tedeschi per cosa non avevano i tedeschi non avevano la contraerea pilotata da computer per carità computer tipo quello di Turing avete visto no quello con cui gli inglesi hanno decodificato grazie a Turing il codice tedesco quindi quindi macchine chiamarle computer era veramente uno sforzo di fantasia rispetto a quelli di oggi però insomma per quanto erano lentissime eccetera c'era calcolavano e calcolavano che cosa? calcolavano l'equazione cibernetica di Wiener perché Wiener praticamente grazie a questi computer lentissimi che giravano con le equazioni sue ha permesso agli alleati di avere un controllo automatico il primo esempio di controllo automatico cibernetico controllo automatico si tendono che la contraerea quindi i bombattieri che erano lentissimi diciamo venivano con una precisione molto maggiore di quando invece la contraerea era affrontata semplicemente all'umano perché il calcolo era quanto tempo la velocità del proiettile rispetto alla velocità dell'aereo siccome la velocità dell'aereo era molto più lenta si riusciva a fare il calcolo esatto anche con i computer lentissimi usando un'equazione a feedback che ha inventato Wiener si riusciva ad avere molta maggiore precisione della della contraerea guidata dall'umano va bene e quindi grazie a Wiener e alle sue equazioni a feedback va bene dove attenzione non è l'azione reazione di Newton della nonità matematica è questa è che parte dell'output viene retro propagato sull'input per controllarlo va bene secondo una reazione che potremmo metriabile essenzialmente è quella sempre della simiatica di Vils e quindi dopo la guerra viene scritta nel 48 il famoso testo cibernetica o cibernetica o controllo della comunicazione nell'animale e nella macchina va bene perché perché lavorando insieme con questo biologo fisiologo Rosenbluth e Rosenbluth scrisse la prima equazione di biologia mai scritta ricordatevi che la biologia siccome poverina doveva usare la meccanica di Newton non funziona niente chiaramente se tu usi l'approccio della meccanica di Newton in biologia non ci calcoli niente insomma la prima equazione biologica in maniera scritta che tornava nei conti era usare i servocontrolli che Vinero aveva usato per l'artiglieria va bene e quindi per modellizzare il riflesso alfa spinale incondizionato negli animali quello per cui se io sento il caldo tolgo il dito automaticamente senza controllo superiore il riflesso spinale va bene è una relazione di feedback che facendo le opportune misure era modellizzata in maniera molto convincente dall'equazione di servocontrollo e quindi di controllo automatico di Vinero allora ecco l'idea Vinero era un grandissimo tema ecco l'idea della cibernetica le teorie dei controlli dei controlli automatici in canale cibernetica mi possono servire per modellizzare le funzioni biologiche nella seconda edizione del 65 dopo la scoperta della doppia elica del DNA va bene estensione della cibernetica anche ai minicanismi generici di controllo nell'ontogenese nello sviluppo del feto dell'embrione dove però Wiener fa questo calcoletto che avevo fatto dell'assurdità dell'idea che tutta l'informazione contro quello che Walser e Kirchner che era grande biologico e primi Nobel ma certamente non dei matematici e del reto divina che l'organismo adulto tutta l'informazione stesse fosse diciamo immagazzinata come in un programma genetico nel DNA ripeto era quel calcoletto che avevo fatto all'inizio perché il calcolo di Wiener era banale però era elementare dice io ho l'organismo adulto e in parte non è vero però l'idea è corretta io ho l'organismo adulto che è fatto di 10 alla 17 ecc va bene differenziate fra di loro ovviamente le differenze sono molto meno di 10 alla 17 perché è differenziazione sui vari tipi di tessuto quindi il calcolo va bene sia e no insomma quindi 10 alla 17 vuol dire che stanno le cellule di un organismo umano adulto stanno nell'ordine di centinaia di milioni di miliardi di cellule 9 più 6 o 15 quindi centinaia di miliardi milioni di miliardi più 2 va bene centinaia di milioni di miliardi di cellule importantine e tutte derivano da una sola cellula secondata allora la differenziazione cellulare che vuol dire che lo vediamo con un semplice albero deduttivo va bene che io ho la cellula che si differenzia la prima differenziazione dice vado di qua o vado di là va bene allora dice ammettiamo che ci vuole un bit per metterci sulla biforcazione poi almeno c'è un altro bit per dire 0 1 no informazione quella di centro 0 1 per andare dice vado di qua o vado di là va bene e quindi due bit per una scelta se c'ho due scelte me ne servono 4 se c'ho tre scelte me ne servono 8 2 alla terza che va con il premaricanto va con il numero delle combinazioni possibili va bene me ne servono 8 se devo avere 2 alla 17 va bene e se io devo avere scusate 10 alla 17 biforcazioni va bene che mi dà tutto l'organismo adulto quante informazioni mi serve mi serve 2 che sono 10 alla 17 biforcazioni va bene abbiamo detto centinaia di milioni di miliardi allora mi serve 2 e le vado centinaia di milioni di miliardi 2 e le vado alla 10 e le 17 questa è un'informazione mostruosa però un programma nel senso della macchina di curi che è quella deterministica classica richiede questo cioè richiede se tu a livello di programma gli hai dato tutta l'informazione in modo che per ogni passo del programma tu c'hai if else così o altrimenti va bene questo è il talcol allora tu non vuoi parlare di programma genetico perché quello non è un programma perché nel programma per definizione da un informatico di livello di vita va bene quello che è pensato informatica ecco da per definizione ci deve stare tutta l'informazione nel programma se no quello non è un programma almeno di una macchina di toni c'è tutte le istruzioni per cui al programma la dice se succede questo fai questo se no quest'altro allora voi vi domanderete perché questi due hanno scelto il termine cibernetica per parlare di questa nuova disciplina per Aristote va bene perché ricordatevi che il termine di cibernetica viene dal greco il kibernetiche cioè l'arte di guidare le navi e Aristotele appunto usava proprio l'arte del guidare le navi come metafora una metafora cibernetica per distinguere i tre livelli dell'azione quella che la scolastica chiamava azione imanente cioè dell'autocontrollo che l'organismo esercita su se stesso e che consiste nelle famose operazioni seconde della vita va bene perché sono tre livelli dato controllo che riguardano o il fine dell'azione o la forma dell'azione o l'esecuzione dell'azione che caratterizzano i viventi rispetto ai non viventi secondo i tre rini della biologia perché diceva Aristotele io uso il linguaggio suo le funzioni vegetative perché sono comuni a tutti i viventi uno da oggi direbbe dal batterio quindi lui era dalla pianta e sapeva che esisteva il batterio dalla pianta all'uomo quindi che sono quelle che noi chiamiamo lui lo chiamava la nutrizione la crescimento va bene la riproduzione queste sono le funzioni vegetative cioè gli organici sono capaci di autocontrollarsi soltanto a livello dell'esecuzione non esecuzione di alcune operazioni le cui forme e fini sono determinati per natura cioè lì il vivente si distingue dal non vivente proprio per questo perché è capace di autocontrollare le soluzioni ma a livello basico delle operazioni vegetative va bene lui è capace soltanto di dire se eseguire o non eseguire certe azioni ma la forma dell'azione la fine il fine dell'azione questo è uno schermacetto di controllo e il fine dell'azione sono date per natura cioè quando lo spiego gli studenti gli dico sempre se io metto uno studente secchione in biblioteca adesso per fortuna c'è internet quindi in biblioteca servono sempre di meno quindi se lo mette in biblioteca quel studente secchione è sentato a mangiare se ne ho ben felice perché dice posso leggere tutti i libri quando gli viene fame però lui cercherà poverino di mangiarsi uno dei libri che ha già letto perché secchione però morirà di fame perché perché il suo sistema digerente va bene non è capace di modificare la forma va bene della sua operazione per per digerire la cellulose viceversa la capra non è lo studente capra la capra capra è messa in biblioteca e sarà felicissima perché si mangia tutti i libri e cresce felice perché il suo sistema digerente è programmato fra virgolette dalla natura va bene per digerire allora la funzione vegetativa diceva Aristotele è il primo livello del controllo dice che c'entra con la l'arte di guidare le navi perché corrisponde al carpentiere il carpentiere deve soltanto eseguire i comandi che gli dà l'ingegnere il sistema di organizzatore però poi quello che governa l'ingegnere è il il timoniere perché il timoniere è quello che usa la nave perché il timoniere dovrà dire guarda io devo fare una nave da guerra va bene allora l'ingegnere progetterà la nave in modo che sia veloce e magari più fragile però perché sia veloce quell'altro invece poi gli dice dice no io devo fare una nave da carico una squadra non fragile più resistente corrazzata ma veloce però proprio per questo magari ha poche capacità di carico viceversa se il timoniere gli dice voglio la nave da carico allora fare una nave forse di struttura più fragile meno veloce però con maggiore capacità di carico il povero carpentiere è colui che obbedisce va bene e lui deve semplicemente alla sua libertà di azione solo di fare o non fare certezioni in base però agli ordini che riceve l'ingegnere da progettista allora diciamo le funzioni vegetative dice Aristotele con l'esempio della chiper nevica per la deve guidare le navi è come il carpentiere che ha solo la capacità di decidere in maniera automatica diciamo autonoma quindi nel caso dell'automa in maniera automatica si eseguirono eseguire certe operazioni ma senza cambiare il programma praticamente nello scopo che ha portato a scrivere quel programma il secondo livello dice Aristotele è quello degli animali che è le funzioni sensomotorie perché nelle funzioni sensomotorie che non sono quelle vegetative chiaramente e il vivente in questo caso l'animale essendo dotato di un sistema nervoso è capace anche di modificare la forma di certe operazioni per esempio cambiare l'orientamento nel camminare in base a quello che i sensi ti dicono però quindi il controllo si esercita anche a questo secondo livello allora vedete in questi sono circoli di retrazione quindi vedete e richiede sempre una geratizzazione perché per controllare questo occorre il metasistema che è questo se voglio controllare questo occorre quest'altro va bene cioè questo sarebbe il supervisor questo simbolo ingegneristico e il terzo livello quello dei scopi e che livello inviolabile no? perché è chiaro che un servo controllo deve avere sempre un livello che a sua volta è fuori del controllo perché è il controllante di tutto il resto quindi questo terzo livello è quello dei figli va bene perché l'animale dice Aristotele è capace di cambiare grazie alla struttura sensomotoria la forma del comportamento ma non può modificare i figli se l'animale non ha fame non si muove va bene se ha fame ha un comportamento di ricerca la pianta invece che non può camminare se non trova il movimento vicino muore va bene l'animale se lo va a cercare però il nutrimento è lo scopo l'animale non può decidere di fare la dieta va bene mangia almeno l'animale selvatico mangia quello che ti serve infatti non ingrasserà né morirà di fame cioè nel senso né farà la dieta dimagrante perché il terzo livello del controllo suppone qualcosa che è fuori ecco le operazioni razionali che sono fuori del sistema va bene che è soltanto per gli umani c'è gli organismi che sono capaci di autocontrollarsi perché l'intelletto che è fuori del sistema e dice Aristotele nel terzo libro dell'anima e dell'anima è fuori del corpo va bene può controllare fini forme e esecuzioni delle operazioni del corpo questo è l'anima razionale attenti ricordatevi che il fuori di Aristotele non è il fuori del cristiano non è l'anima spirituale platonica è la partenenza alla polis greca perché ricordatevi che Aristotele Platone era un razzista ma di quelli tosti perché per il greco sia Platone che Aristotele i barbari cioè i non greci non avevano l'anima razionale chiaro quindi questo essere exode somatos fuori del corpo non è il dualismo platonico è semplicemente il controllo sociale ok se appartiene al popolo greco hai l'anima razionale quindi la capacità di controllare anche i tuoi stinti altrimenti sei un animalone va bene come i barbari ok che non avevano la 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 patente al popolo greco i romani sono un po' più egolumi che ce ne riperti no un po' più pratici pragmatici i romani va bene te la puoi conquistare la libertà o la paghi o per meriti di lavoro va bene ma il greco invece da sì stati quelli torsti e quindi il ora se io prendo questo che è un semplice amplificatore quindi è il sistema di cibernetica più banale di la domanda che voi avete però vedete che c'è una struttura triatica guardate qua questo è una delle illustrazioni di cibernetica vedete questo chiaramente è un amplificatore quindi non c'è scelta fra diversi tipi di output no l'output è solo amplificare l'input e quindi questo operatore è un'operazione operazionale se avesse il sistema qui poteva scegliere tra n tipi di comportamento e l'avrei dovuto disegnare qui con tante stanghette no e questa fatta così perché sceglie questo questo o questo però siccome questo è solo un amplificatore quindi banale l'output è uno solo e quindi questo è un semplice circuito di amplificazione che comunque semplifica il carattere triatico di ogni circolo di retroazione in cibernetica fra un effettore che è questo che è un operazionale qui un comparatore va bene che fa un matching fra un certo risultato che voglio ottenere e l'output che effettivamente ottengo quindi prendo l'output e lo confronto rispetto a un valore dato va bene e se c'è un mismatch ok ecco vedete il carattere finalistico se c'è un mismatch quindi che cos'è un fine da un punto di vista matematica una massimizzazione cioè se volete in questo caso è una minimizzazione dell'errore che è del mismatch fra un input un output desiderato un valore di output desiderato e un output attuale del sistema va bene e poi lui in base a questo confronto manda un segnale al al terzo cioè al controllore va bene che manda il segnale all'effettore cioè se amplificare o meno o di quanto amplificare va bene quindi questi sono come vedete la struttura triadica che unisce il circuito di controllo automatico senza questa struttura triadica ecco qua vedete Aristotele ecco perché ma guardate che storico loro hanno chiamato cibernetica questo è dove scrive l'hanno chiamata cibernetica perché hanno visto che questa struttura triadica di un sistema automatico di controllo rifletteva proprio la metafora cibernetica di Aristotele per i tre livelli dell'operazione dell'Italia quindi la cibernetica ha proprio un'origine come termine aristotelica come l'epigenetica che è un termine aristotelico quindi ci sono tre modi quindi per significare in semiotica e quindi in logica secondo tre classi di relazioni fra segnali e segni e segnali e segni nelle comunicazioni quindi nei linguaggi nella base diciamo semiotica del tipo di linguaggio queste tre classi poi sono di un alunno con la divisione scritta così applicata anche in logica sono di un alunno di BIRS che appunto ha distinto fra sintassi semantica e premanica dunque l'alunno vabbè non mi viene adesso e lo trovate e che poi è stato il secondo Wittstein ha preso il posto di lui all'Università di Cambridge adesso non mi ricordo mi sfugge il nome comunque è classico perché l'idea comunque è di BIRS la distinzione della sintassi cioè le comunicazioni significanti dipendono dalle relazioni fra i simboli secondo quindi le regole di una grammatica e questa è la coerenza in logica o la semantica le comunicazioni significanti dipendono dalle relazioni dei simboli con contenuto nel doppio senso del meaning cioè della connotazione e della referenza quindi significato di referenza cioè la denotazione diciamo il significato tu lo puoi dire definendo per esempio quindi la connotazione definendo il mouse quindi dico io per mouse non intendo un animale un toco ma intendo un oggetto elettronico questo oggetto elettronico di puntamento allora connotando io posso definire la referenza perché in base alla connotazione va bene la definizione diciamo così io posso sapere se mi sto riferendo a questo oggetto o a un toco ok o a un toco animale quindi il secondo livello è quello della semantica di relazione all'oggetto e quella grammatica le comunicazioni significanti dipendono dalle relazioni dei simboli con con il mittente o ricevente scusate con i comportamenti l'immittente o ricevente perché la grammatica come la retorica nella vecchia distinzione aristotelica ha a che fare non col dimostrare ma col convincere cioè a cambiare le persone il comportamento quindi la pubblicità la retorica eccetera eccetera questo fa parte della pragmatica allora la biosimiotica in che senso uno oggi parliamo di codice generico non di programma generico va bene perché perché il l'acido desossi ruponoglenico grazie alla struttura aspirare che rende possibile cioè che ci siano certi campi piuttosto che altri per questo che arricchisce la capacità comunicativa perché il linguaggio del linguaggio di simboli base sono solo quattro quindi sono quattro aminoacidi quindi c'ha 21 lettere come l'artopera italiana le 20 come quello anglosassone insomma sono pochissime lettere quindi le combinazioni sono poche però grazie alla struttura spirale che consente in termini di coerenza di fase molto più complesse allora la capacità di linguine la capacità diciamo di immagazzinamento dell'informazione del sito del DNA comincia a diventare alta perché il nucleo di una cellula umana che contiene l'intero insieme del genoma umano stiamo a livello di micrometri in diametro se micrometri è dimensionalmente equivalente con il fatto che si attorciglia a ben 40 chilometri di filo va bene però messi tutti ammucchiati per farci un'idea tutti inviluppati dentro una pallina di tennis quindi pensate che razza di grudinio va bene come se prendessimo 40 chilometri di filo fine contro un capello 40 chilometri sono tanti tutti attorcigliati dentro una 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 palla che ci siamo accordi perché hanno trovato un modo di misurare queste proprietà quantistiche senza abbassare la temperatura perché se tu pretendi di andare a cercare le proprietà quantistiche abbassando la temperatura tu spacchi le gambe per questo c'è fragiare il biomolecol se ci credo e quelle sono stabili soltanto a temperatura ambiente non usano mica i formalismi della meccanica quantistica o della materia quantistica dei campi a temperatura zero capito perché non lo trovavano quando poi hanno trovato il modo di poter fare le misure ma a temperatura ambiente usando l'aggeggio elettromagnetico che dice questo scritto nell'articolo allora guarda ha le proprietà ondulatorie cioè di campo va bene di un oggetto quantissimo a temperatura ambiente indondante indondante io dico questo perché sarà dieci anni che io sto cercando di dire queste cose in quell'ambiente americano voi pensate solo che a Berkeley quando sono dovuto andare quando sono andato per stare per il mi hanno proibito va bene di dire in pubblico queste cose perché perché dovevano propagandare questo mega congresso in Berkeley secondo me dell'informazione non volevo andare un altro tipo di rete neurale che non era quella nostra che era che finalmente lavorava sul principio della termodinamica ma era sempre la termodinamica dell'equilibrio e non quella termica quindi doveva il nostro era un modello fra l'altro anche implementato in ottica in ottica quantistica quindi non era soltanto un'equazione neanche noggigio che funzionava che funziona che però capito andava contro il paradigma che dobbiamo provare ad andare per congresso adesso siccome abbiamo il problema del virus tutto diventa buono perché dobbiamo anche andare a vedere se e allora ecco tutta questa risonanza a questo a questa scoperta fra l'altro fatta in un laboratorio europeo però tutta questa risonanza è stata negli Stati Uniti a questa cosa perché finalmente anche loro si sono decisi a lavorare su una quantistica della fisica della materia condensata forse c'è anche un altro motivo che nel gennaio 2020 quel gruppo che sono andati a visitare a novembre va bene in quanto un gruppo ha pubblicato su Nature che per la prima volta anche la Russia entrava nella competizione per i computer quantistico e non usando l'idea americana della quantistica che lavora allo zero assoluto a meno 273 perché usa tutta la meccanica statistica di Gibbs anche in interia quantistica di Kant ma di lavorare in fisica della materia condensata anche i russi adesso hanno detto bene adesso abbiamo la tecnologia come abbiamo anche noi su Bologna per poter fare un computer quantistico che lavora a temperatura cambiante usando i principi della fisica condensata cioè quanto un filtro di termica va bene allora tornando a noi questa è la struttura dell'antinoacido questa è la struttura del DNA perché diciamo attorcigliando si rende possibile tutti questi legami che rappresenta che le forze di Van der Waals sono molto a corso portoraggio quindi soltanto se tu le avvicini le molecole si creano questi legami di amici quindi un genoma umano diploide cioè a doppia erica può immagazzinare 1.5 per 10 alla 9 bytes se mi do la 8 e quindi 1.5 gigabyte di dati non è un granché rispetto agli dischi che ci abbiamo non siccome il DNA è capace di codificare 2 bit per l'implio di la sua densità di immagazzinamento va bene e le sue piccole dimensioni che quindi rendono possibile la creazione dei gamichi invece fanno sì che un grammo di DNA diciamo secco le cose sono attive soltanto nell'acqua è capace fino a 450 e subbyte 10 alla 18 le subbyte sono miliardi di miliardi quindi giga e miliardi ok miliardi di miliardi 480 è un bel numeretto però certamente non arriva mai alla 10 18 di cosa di vita però è significativo tanto è vero che c'è tutto dei lavori che poi ve l'ho messo che cercano di usare ingegneria genetica strutture di DNA come immagazzinatori va bene perché effettivamente c'è problemi di stabilità però effettivamente tutti diciamo inventando strutture di DNA che non porteranno mai un vivente ma che puoi usarlo per cercare di immagazzinare quel po' informazioni che vedete qua ok che si sono questo è preso da questa citazione in cui si vede un'applicazione della vita artificiale però questa è scienza non chiacchiere che ti permette di avere delle strutture di immagazzinamento ripeto ci sono un sacco di problemi però nel principio è una tecnologia che a quanto vedo fanno solo in India non ho visto altri possiedi del mondo che fanno solo in India in ogni caso quello che mi interessava è il concetto di epigenetica perché questa è la definizione se volete vedere quanto oggi gli studi di epigenetica sono progrediscono proprio con continua di produzione questo è il data base che è pubblico del National Institute of Health quindi formalontologico che dicevo per programmarlo in cui vengono raccolto tutto ciò che si lavora nel mondo a livello di genoma va bene lo sapete noi abbiamo neodificato il genoma umano però noi abbiamo tutto il problema di come funziona il genoma perché e quindi andate a fare solo una riga andate qui a lì fate una ricerca epigenetica e vedete che si è fuori che cos'è l'epigenetica è un termine cognato da Waddington adesso vedremo perché è aristotelico tanto per cambiare come la cibernetica cioè l'epigenetica è lo studio di cambi ereditabili nel fenotipo senza cambi nel genotipo vi ricordate tutte le chiacchiere inutili che noi abbiamo fatto fra l'ambiente e quindi tutta la almeno la prima metà del novecento era la biologia russa che ovviamente essendo comunisti tutto dipendeva dall'ambiente e invece gli americani sempre i ciberisti tutto dipende dal genere va bene e l'idea l'abcino della teoria evolutiva darwiniana è che i campi le modifiche avvengono soltanto grazie ai cambi ereditabili avvengono soltanto per modificazioni del genotipo non è vero va bene perché perché l'animale o lo stesso DNA senza l'ambiente in cui è inserito va bene non sono niente io volevo dire solo questa cosa che purtroppo più studio e più capisco che le miserie umane rallentano il progresso nel progresso scientifico questo è sicuro perché ci sono altri interessi allora il perché l'idea è questa per esempio dei cambi ereditabili nell'espressione genica cioè le sequenze di DNA come guidano diciamo lo sviluppo dell'embrione della cellula secondaria lo guidano perché l'ambiente chimico intorno alla cellula attiva o disattiva delle sequenze di DNA quindi dei geni allora l'edigenetica è proprio lo studio ecco come teoria della segnalazione quindi dei segnali chimici fisici che poi tu a livello di fisica fondamentale studi come teoria quantistica dei cambi dei segnali chimici mediante cui si attivano o disattivano certe sequenze di DNA e quindi hai la specializzazione cellulare per esempio se io voglio curare determinati lesioni usando le cellule totipotenti quindi quelle non ancora differenziali che non stanno solo negli abriomi stanno anche nel grasso nell'indigno uso queste cellule totipotenti le metto nell'ambiente ad esempio nel tessuto vi parlo di un mio amico Ventura che lavora accanto a noi sempre a Bologna quindi studia queste cose cioè realizza queste cose in ingegneria generica se tu metti la cellula di potenti in un certo ambiente quindi nell'organo che si deve riparare lui lo usa per il cuore non meglio già c'è una recchina che a Bologna usa normalmente rizzoli ormai per curare le piaghe non bene uno dei primi a sviluppare è stato lui cioè lui prende le cellule totipotenti dal grasso attenti perché il grasso perché così la cellula ha il nutrimento intorno perché quando tu la devi mettere ad esempio in un ambiente estremamente insano dal punto di vista biologico e la piaga e tu la devi tenere ferma lì perché la cellula cerca di scappare se non li muore non bene perché è pieno di infezioni ok allora se tu la trapianti diciamo con la sua pappa quindi con con il nutrimento del grasso intorno quella resta ferma lì non se ne va in giro e quindi a tempo di poter essere codificati diciamo di poter codificare e quindi riprodurre la cellula del tessuto piagato perché rimane questa resta ferma lì tant'è vero che ad esempio mi ricordo che ha lavorato su queste cose in specialistica lui ha fatto un anno in specialistica in biblioteca dei materiali in fisica dei materiali facendo degli scaffold che c'è delle strutture di materiale che poi viene mangiato diciamo così dalla cellula quindi poi si si consuma da solo degli scaffolding artificiali ha studiato questo per tenere ferma la cellula da tipo dente per poter essere differenziata va bene ma la differenziazione quindi il processo delle biforcazioni di cui faccia il riferimento il buon winner dipende dall'ambiente intorno ci sono degli studi di epigenetica che addirittura dimostrano che certi meccanismi di memoria nel cervello hanno proprio una fondazione epigenetica quindi di epigenetica ormai sono pieni qualsiasi di vista di biologia ora il termine era usato da Aristotele proprio per criticare il preformismo platonico cioè dell'omuncolo invece Aristotele diceva nel sene c'è soltanto diciamo la causa la causa perché ricordate che la causa formale per Aristotele dipende dalla causa intente che agisce sulla materia quindi ordina la materia in un certo modo e dell'adulto quindi era epigenetica preformismo quindi il termine moderno nasce da Waddington che negli anni 40 l'aveva usato per significare appunto questi processi dinamici non lineari che stanno sotto alla specializzazione cellulare in cui l'ambiente interno esterno della cellula determina le espressioni geniche per esempio nella torcigliarcia spirale dei filamenti del DNA e l'influenza nell'ambiente chimico interno esterno della cellula è fondamentale per l'attivazione e disattivazione delle espressioni geniche nelle sequenze DNA senza modificare loro senza modificare perché la specializzazione cellulare è un fenomeno che riguarda appunto perché il DNA di tutte le cellule è sempre quello l'unice DNA fuori su quelli dei tumori ma tutte le cellule di un organismo sono tutte lo stesso DNA la specializzazione dipende da un fatto epigenetico cioè dipende da dove dall'ambiente chimico in cui la cellula è inserita che fa sì che venga attivata o disattivata certe certi meccanismi per cui poi quando la cellula muore e genera un'altra la genera già specializzata quindi diventa allora l'epigenetica l'altissimo interesse che tu hai sia nell'espressione genica ed è dove adesso si concentra sulla ricerca ma anche nel proteoma questo è il genoma il genoma quindi è il corredo genetico nell'ambiente va bene ma anche il proteoma cioè e perché gli stessi principi valgono sempre in periodo dei campi e quando ci abbiamo come se perché il DNA è per la generazione di proteine ma poi c'hai l'assemblaggio delle proteine che vanno a costituire i tessuti e addirittura gli organi della cellula e qui abbiamo per esempio i microtuboli famosi del citoscheletro della cellula che è praticamente una struttura fatta di così di un tubi va bene dove che sono fatti nello spessore della cellula sono di una molecola soltata e che vengono modellizzate per esempio direi quantissima dei campi molto bello per vedere la struttura che poi è una struttura frattale come si propagano proprio usando materia quantistica dei campi tutti i lavori già fatti a livello di modellizzazione matematica poi chiaramente ripeto c'è tutto questo sviluppo di poter simulare finora usando dei super computer tradizionali diciamo così o non hanno ancora applicato quelli quantistici perché ti ripeto quelli quantistici attuali sono solo non programmabili tu li puoi specializzare con un tipo di calcolo ma non a fare calcolo di questa complessità in futuro appunto sviluppando una composizione quantistica che lavora a temperatura ambiente perché usa i principi del lavoro effetti termica tu potresti anche simulare la complessità che a livello di calcolo normale non ci riusciresti mai lo fai è la dinamica che ti sviluppa il calcolo va bene non è la tua i tuoi numeri è un calcolo analogico digitale ma ricordatevi che in qualsiasi computazione artistica anche quella classica è sempre analogico digitale perché tu con i due i due stati che praticamente usando il principio di sovrapposizione fa sì che totalmente non è 0-1 ma tutti i valori perché è un nome reale probabilissimo tutti i valori fra 0-1 quindi il quantum computing del cubit è solo un modo di usare appunto l'entanglemento quantissimo per fare calcolo analogico digitale perché ricordatevi il calcolo analogico erano i vecchi i vecchi computer a valvole calcolo analogico è bello per questo che con la variazione di grandezza tu calcoli simultaneamente tutti i valori della funzione va bene il calcolo numerico calcola un valore per volta in maniera seriale ma con l'analogico tu vari una una pensata ai vecchi regoli degli ingegneri con un solo movimento tu calcoli simultaneamente un sacco di valori va bene allora chiaramente se usi un intanglemento quantistico siccome è istantaneo è la composizione analogico digitale più veloce di questo mondo più veloce che si possa immaginare va bene ricordatemi che la propagazione di fase va come c4 su v perché la coerenza di fase non è fatta di segnale è la condizione su cui il segnale può essere inviato e quindi la coerenza di fase non viola c ma la velocità diciamo della propagazione della coerenza di fase in campo quantistico è c4 su v va bene e senza violare c ok perché non sta inviando un segnale ok entanglemente quando tu lo spieghi a particelle e dice se mandano i segnali a velocità superluminare non si parlano le particelle sono semplicemente diciamo così quanti di un campo va bene e quindi sono una nuova totalità e ripeto la coerenza di fase se tu prendi le equazioni della coerfetti dimensionalmente va come c4 su v ok a distanza che sono dell'ordine 10 alla meno 8 cm che sono quelle del raggio dell'atomo c4 su v distantaneo manca la distanza del DNA allora questo è l'epigenetica a livello genomico va bene vedete che ci sono gli introni scusate gli stoni scusate che sono appunto quindi i meccanismi epigenetici sviluppo chimica ambientale e gli effetti appunto di farmaci o di droghe le dà che in me l'impecchiamento è la dieta ok allora i risultati sono il cancro il cancro ha una giustificazione epigenetica tutte le malattie autoimmuni tutti i risordini mentali e il diabetico hanno tutti i fattori epigenetici di me ok il ora usando il gruppo medico della famosa mutilazione del DNA va bene che è un fattore epigenetico di drogamentali può taggare adesso non vedete come ho detto lo vediamo il DNA e attivare o deattivare o reprimere l'espressione genica va bene quindi gli stoni sono proteine attorno a cui il DNA si arrotola va bene per la compatificazione del DNA e per la regolazione perché usando il gruppo metile ma non è solo quello noi abbiamo questi questi studi che hanno quindi un ruolo fondamentale per non solo per la struttura fisica del DNA ma anche per l'attivazione non attivazione del gene infatti se è così il DNA diventa inaccessibile e il gene è inattivo se si se si sdrotola diciamo così il DNA è attivo e il gene è attivo e diciamo così questi sono i fattori epigenetici che possono determinare il passaggio da gene inattivo off a gene attivo on ok quindi il collegamento fra un fattore epigenetico ripeto che sono tutti questi e verso l'istone altera l'estensione con cui il DNA viene e si si arrotola attorno ai listoni e quindi la disponibilità dei geni ad essere attivati o non attivati questo è proprio il meccanismo ci sono molti molti altri ma proprio per far capire il meccanismo base dell'epigenetica per questo voi trovate un sacco di lavori sulla metilazione del DNA va bene e nel caso della vita io ho detto sono campi perché le biomolecole probabilmente sono attivate se non è l'acqua perché diciamo per mandare i segnali nell'ambiente chimico delle cellule e anche estraccellulare il carrier wave cioè il segnale base su cui mando è i campi di dipolo che caratterizzano le molecole d'acqua e le e questo perché l'acqua si come lega si lega attraverso i campi di dipolo e come vedete sono perpendicolari questo rosso è il campo elettromagnetico questo è il campo di dipolo e siccome tutte le molecole d'acqua e tutte le biomolecole hanno un campo di dipolo molto forte il carrier dentro cui avviene quella segnalazione che sta qui che vi dicevo se lo guardo a livello di di il carrier con cui questi segnali possono venire inviati e il correnza di fase dei campi di dipolo va bene e quindi questo soltanto per farvi capire come l'ordinamento è fondamentale quindi nell'informazione c'è una componente fisica del segnale e una componente di ordinamento e fra diciamo così principi attivi e passivi io qua l'esempio più banale c'è un cerino acceso c'è un soffio c'è una panina se metto questo ordinamento temporale ottengo questo risultato se diciamo faccio quest'altro tipo di ordinamento creo l'incendio come vedrete le case agenti e materiali sono rimasti identiche è cambiato soltanto l'ordinamento ovviamente questo che cosa c'entra con la teoria dell'informazione a livello fisico purtroppo non faccio intanto a spiegarvelo lo trovate nel resto delle risprenze però qui se andiamo avuto sui fondamenti dell'informazione a livello fisico e quindi anche biologico praticamente quando tu lavori a livello di teoria quantistica di campo di fisica fondamentale nelle equazioni tu non c'hai soltanto fermioni e bosoni di gauge cioè quanti di energia per esempio i fotoni ma c'è un altro tipo di bosoni che si chiamano i bosoni di Nabogosso i bosoni di Nabogosso io vi ho detto ho parlato delle coerenze di fase sono correlazioni a lungo raggio queste correlazioni a lungo raggio sono modi collettivi di andare in fase di campi di energia o di materia quindi i campi associati alle quattro forze fondamentali le tre forze fondamentali quantistica elettromagnetica e qui stiamo in fisico fondamentale elettromagnetica forza forte e forza debole ci sono quanti di energia quindi sono i fotoni per l'elettromagnetica i gloni per la forza forte i bosoni con il doppio zeta per la forza debole però c'è i modi collettivi coerenti cioè le coerenze di fase nel senso questi campi possono andare in fase fra di loro e così rompono la simmetria del modo quantistico cioè dell'oscillazione fondamentale dei campi quantistici che dipendono continuamente dal terzo principio della termodinamica allora tu puoi avere i campi che vanno in fase quindi manifestano dei modi collettivi i quanti di questi modi collettivi si chiamano bosoni di lambo costo che non sono quanti di energia non sono neanche quanti di materia di massa sono quanti delle coerenze di fase quanti dei modi collettivi stanno in tutte le equazioni della fisica fondamentale si chiamano bosoni di lambo costo tutta la modello standard a livello da questo e che quindi vedete mettono ordine ok ma stai modificando l'energia perché stai allo stato fondamentale ok stato di minima energia però quello stato fondamentale è compatibile con diversi ordinamenti proprio perché ogni ordinamento è un modo collettivo di oscillare in fase dei campi di per sé senza modificare l'input energetico perché torno a ripetere non stai giocando su l'inserire della nuova energia ma come l'organizzazione diciamo dinamica dell'oscillazione dei campi può determinare diversi autori ok allora io devo andare allora ecco questo è la base per fare misure fisiche dell'informazione semantica sia in fisica quantistica sia in biologia e ci fermiamo qua sarebbero tante cose da dire adesso lo trovate nel corso completo di Inopolis ok e vi saluto qua ci siete ancora c'è qualcuno ancora io ci sono che ho la pezzella adesso no vedo è stata un'ora questo mi piace poi se volete di queste cose ne parlo sia i corsi miei di special spesazione poi però c'è il corso completo già messo su sull'Irax quello di Noboris che è un completamento di tutte queste cose per tutti i versi mancanti che ovviamente qui per questo soltanto è finito ok grazie professore arrivederci ci avrete anche tutta la bibliografia online ci avrete anche ciao grazie professore arrivederci ciao grazie prof ciao 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 Grazie a tutti.